1901. Guglielmo Marconi riceve il primo messaggio radio fra Europa e America. 1913. Recuperata a Firenze la Gioconda, rubata due anni prima da Vincenzo Perugia. 1969. Milano, ore 16 e 37. Strage di Piazza Fontana. Commenta il fatto del giorno Roberto Papetti, direttore del Gazzettino. Oggi parlerò di The Voice, Frank Sinatra.